Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati a Batti5, il salotto del vital service Pesor, il salotto a tinte bianco-rosse che ci ospita e vi trasmette dentro le vostre case per raccontarvi quanto è accaduto nei quarti di finale per quanto riguarda la formazione bianco-rossa e vi proietta anche ci e vi proietta anche verso le semifinali, perché siamo arrivati alle semifinali, prima di scudetto grazie a due successi, parleremo di tutto questo, faremo il punto e guarderemo in avanti con il tecnico del vital service Pesor, Fulvio Collini, buonasera. Buonasera a voi. Ben ritrovato mister, ben ritrovato a colui che guida dalla panchina la squadra capitanata da Filippo e Tonini Dandelle che credo sarà contento di come sono andati i quarti di finale. Sì, le prestazioni poi dopo vanno analizzate in maniera differente rispetto alla mera constatazione del risultato numerico, però comunque nelle due partite la squadra ha continuato un trend che era abbastanza evidente già dalla Coppa Italia, una buona notizia per il prosieguo, adesso noi avremo questa semifinale, quindi era importante che il collaudo dei quarti fosse non solo vincente ma anche avesse un riscontro in questo senso. Vincente e convincente, due vittorie nella gara 1 il 4-2 del vital service Pesor alla Cameloson in casa, al pala Nino Pizza e poi la vittoria in trasferta 5-1 appunto in provincia di Treviso. Vediamo nel dettaglio i risultati di gara 2 che hanno aggiornato il tabellone playoff come vedremo fra qualche istante. Dunque il Cameloson e il Tazzaro di Spesor appunto 1-5, quindi Marita e Magusta acqua e sapone unigrosse 0-4 e la vittoria in trasferta anche della Lollo Caffè Napoli 5-3 sul campo della Meta Catania Bricociti e 2-1 del Real Rieti sul campo della Feldieboli. Quindi sono chiusi 3 su 4 i discorsi relativamente ai quarti di finale ovvero quelli che riguardano i Tazzaro di Spesor che passa ai danni del Cameloson, Real Rieti passata a scapito della Feldieboli e della Lollo Caffè Napoli che ha superato il turno a scapito della Meta Catania. Per assurdo guardando la classifica chi ancora deve sudare un po' quando stiamo andando in onda sta giocando la sua gara numero 3 è la capolista, l'acqua e sapone che ha perso in casa la prima, ha vinto in trasferta la seconda e in questi istanti in casa si sta giocando il pass per le semifinali. Da una parte quindi Italservice-Pesaro-Real Rieti, dall'altra Napoli contro, presumiamo, acqua e sapone. Le quattro big più attese avanzano. Sì, oltretutto dei quattro quarti di finale tre erano molto a rischio di gara tre ed erano quelli che invece si sono chiusi in due gare. Quello che vedeva veramente una netta supremazia e nessun pronostico per la squadra ottava in classifica invece va alla bella. Questo è il bello dei play-off che ovviamente implicano oltre al valore tecnico tattico in campo anche quello motivazionale di concentrazione e anche di, non dico di fortuna, ma con un buon nesso di casualità, nel senso che se sbagli una partita, mezza partita, purtroppo non è facile poi recuperarla. Cosa è successo all'acqua e sapone in casa nella gara 1? Beh, loro sono stati sorpresi da una tattica abbastanza, secondo me comunque prevedibile, del Maritime, che ha giocato 40 minuti col quinto di movimento. Si sono innervositi perché hanno fallito tre o quattro gol abbastanza facili e quando poi la partita veleggia verso la metà del secondo tempo, la squadra che ha più necessità di fare risultato può commettere degli errori e può andare un po' in bambola. Questo è accaduto in gara 1. Poi il riscatto in gara 2, noi stiamo dando per scontato, ripeto, in questi minuti che l'acqua e sapone vinca in casa col Maritime, che pure, non solo in questi prima, ma anche in campionato, ha fatto sudare, ricordo, parecchio nelle ultime giornate l'acqua e sapone. Quindi il rischio scivolone c'era o c'è, a seconda di a che minuto siamo. Beh, diciamo che oggi hanno perso comunque il Maritime, che gioca già in sottonumero rispetto all'acqua e sapone, che come sapete gioca con 10 giocatori in rosa di primissima fascia. Dicevo, ha perso anche Caio Giaba, che è il giocatore, diciamo, più forte, che è stato espulso, ahimè, all'ultimo minuto di gara 2, quindi non ci sarà in questo momento a difendere la maglia del Maritime. Quindi la vedo veramente difficilissima per il Maritime. E allora concentriamoci sulla nostra Italservis Pesaro, riviviamo un po' a modo di breve, diario, video, quanto accaduto in gara 1, in casa, al pallino pizza, Italservis Pesaro che ha battuto il Camelosson 4-2. Rivediamo gli air-right. Buonasera, ben ritrovati dal Palanino Pizza di Pesaro, gara 1 dei quarti di finale del campionato di calcio 5. La Serie A si gioca per vedere chi vincerà lo scudetto nella stagione 2018-2019. Scendono in campo oggi le prime due, il primo quarto di finale, quello tra Italservis Pesaro Calcio 5 e il Camelosson. Si attende soltanto il fisco per dare il via a questa gara 1 al Palanino Pizza, sempre 0-0 il punteggio tra Italservis Pesaro e Camelosson. Buruto qui recupera il pallone e lo sblocca subito. Quasi alla secca di andare da Buruto, capisci tutto Fuseri che recupera il pallone, doppio passo, prova ad andare sul mancino a calciare. Tanti cambi, dicevamo, in questa partita, allenatori che possono giocare con tanti giocatori qui intanto, giocato di Solas e poi salvataggio clamoroso da parte di Igor e qui di Pietrangelo su Caputo si è assiesa con una fiammata la partita. Padone per Schiuchet, i due scambiano, ancora Grippi, Grippi calza, Miarelli e poi il tappine da due passi di Belluomo. Va sul fondo Norio, cerca dentro il pallone per Marcelinho che traverti del 2-1, si arrabbia Silvio Roscia perché subito così in uscita dal time-out. Viera la gestisce, va a terra, non riesce a passare, passi invece Buruto che tiene in campo il pallone. Buruto, Buruto la finta e poi la palla lì, Pietrangelo due volte. Caputo, Buruto di prima per Canal, si chiude il triangolo, ancora Buruto, Buruto, Pietrangelo. E dopo i primi 20 minuti di gioco, si va a riposo con il punteggio di Tanservi, Spesaro 2, Kamedosson 1. Secondo tempo, Fisco che arriva proprio in questo momento. Igor prova a passare, perde il pallone qui. Attenzione a questi errori, Salas, Bertolini lo prova a stendere, Salas dentro per Caputo. Toccato probabilmente al piede, non va giù Marcelinho. Si continua a giocare, Canal dentro da Marcelinho, che si gira! e trova il gol del 3-1. Gran gol da parte di Marcelinho. De Matos, Skiosci, che rischia tantissimo, recupera il pallone Onorio, che trova la rete del 4-1. Vira per Skiosci. Bellomo dentro da Igor, che trova con il piatto destro la rete del 4-2. Termina qui, gara 1 del quarto di finale. Tanservi sbatte il Kamedosson per 4-2. Abbiamo rivisto, mister, la vittoria 4-2 in casa, con tante occasioni sprecate, qualche disattenzione in fase di difensia su palla inattiva, però insomma, un bel pesaro. Sì, è quel pesaro che abbiamo visto negli ultimi tempi, io lo dico sempre, dal meta in poi, dalla trasferta di Catania. Una squadra un po' più compatta di quello che avevamo visto nel giro d'andata, che è un processo lento, giustamente, di crescita dal punto di vista tattico. Adesso è una squadra che, insomma, sa quello che vuole in campo e che combatte tutte le partite per vincerle creando abbastanza di più della squadra avversaria. Questo lascia ben sperare, ma ovviamente noi sappiamo che comunque una semifinale contro i Riedi è quanto di più difficile in questo momento ci potesse capitare. Poi approfondiamo ovviamente l'argomento avversario, il prossimo avversario, adesso però vediamo anche gara 2. Kamedo Sonny, Tazierry Spesaro. Il fisco iniziale di questo match ci ha provato Igor, la chiusura e questa volta la rete! Catania la sblocca! L'1-0 da parte della formazione di casa. Di attacco e però è Tiago Grippi! Che con il destro prova il pallonetto ma il pallone si alza. Parte Marcellinio, prende la ricorsa, Di Mancino il tiro e la parata! 3 minuti e 33 e dal fine del primo tempo il piazzato e il pareggio! Il pareggio! con Marcellinio sul secondo palo pronto a rivadire il pallone in rete! Salta molto bene Canale all'avversario, il pallone! Per Doni D'Adele e poi ancora per lo stesso numero 11 Canale e quindi si riprende il gioco. Attenzione! Toni D'Adele trova il vantaggio! La formazione ospite con il suo numero 5 pallone per Borrutto Borrutto Attenzione! Sulla linea di Porta Murillo per Borrutto a 2.56 Eccolo qui Attenzione! La rete del 3-1 da parte di Borrutto che sancisce virtualmente il passaggio di turno Murillo vediamo se prova il tiro Bellomo ancora Caina pallone che si alza e c'è il gol anche fortunoso da parte della formazione ospite e quindi siamo sul 4-1 ed eccolo qui Marcellinio l'1-5 l'esultanza ovviamente per la squadra ospite 1-5 il risultato finale Sotto col Camelosson in casa proprio si è rischiato anche di prendere il raddoppio nei primi minuti poi la scossa e sono emersi i campioni di Lethal Service Sì abbiamo preso l'inizio sapevamo sarebbe stato terribile è stato così noi abbiamo visto gli highlight ma la partita vi posso assicurare nei primi dieci minuti non siamo riusciti proprio a superare la metà campo hanno giocato in maniera molto dura molto dura e abbiamo anzi che siamo riusciti a non commettere errori tranne in un'occasione che potessero mandare sul doppio vantaggio la squadra del campo poi abbiamo cominciato a macinare un po' di più sulla loro prevista e prevedibile stanchezza il calo dopo la veemenza dei primi minuti abbiamo approfittato di una espulsione ma che è figlia del ringhio e della durezza con la quale hanno giocato i primi minuti e abbiamo riportato la partita in parità al secondo tempo è stato leggermente più tranquillo tra virgolette abbiamo retto bene qualche minuto poi quando Toni Dandella ha portato in vantaggio la squadra per loro è calata un po' la veemenza perché sarebbe stata molto lontana a quel punto per loro la qualificazione dovevano fare infatti due gol e noi stiamo difendendo molto bene due vittorie comunque in cui spicca la grande partecipazione anche del pubblico in casa e fuori c'è sempre e crescerà lo sappiamo ne siamo consapevoli e convinti in vista delle semifinali che ancora manca l'ufficialità al 100% ma per una serie di motivi che non stiamo qui a spiegare al 99% si giocherà gara 1 sabato alle ore 18 al Palanino Pizza e gara 2 martedì 14 alle ore 20 e 30 è così no? sempre al Palanino Pizza è così mister giusto? dovrebbe essere così aspettiamo l'ufficialità che dovrebbe arrivare domani mattina e in queste due partite qua la componente pubblico la componente partecipazione contro un avversario importante come la Real Rieti sarà un ulteriore fattore importante sì questa semifinale è condita da una serie di aspetti secondari perché quello primario ovviamente è l'accesso a una finale scudetto che insomma è quanto di più alto si può ottenere nel nostro sport e nella nostra nazione quindi a parte questa posta in palio c'è la rivalità tra le due squadre le due società i due gruppi di giocatori il precedente della finale di Coppa Divisione è una squadra molto rognosa tra virgolette nel senso che non molla una palla è difficile giocarci contro però questo speciale calendario di semifinali che vede due gare in casa per la squadra meglio piazzata cioè noi e poi due fuori ci impone un ritmo alto una testa alta e una combattività importante nelle prime due gare anche perché c'è una novità rispetto al passato di regolamento in caso di parità nei 40 minuti si va a supplementare e poi eventualmente rigori per mettere una V da una parte o dall'altra eh sì quindi ci sarà un dispendio di energie di fisico mentali che è veramente straordinario rispetto a quella che è la routine del campionato e bisogna vedere chi arriverà più preparato quali sono ormai siamo in volata al di là di come andranno le partite non credo che il giudizio potrà cambiare su le valutazioni potranno cambiare sui giocatori sul gioco sulla società dopo queste gare perché insomma poi si vive di dettagli di episodi quali sono le cose che ti rendono e ti hanno reso più orgoglioso più felice di questa stagione fino a questo momento mettiamola così e cosa invece su cosa invece bisogna lavorare già adesso a prescindere da come andranno appunto queste gare intanto intanto dico che una serie 3 su 5 di semifinale dà ancora motivi di giudizio nei confronti di tutti e quindi noi l'affronteremo anche non pensando a questo però ben sapendo questo beh la società è partita con una con una speranza e un impegno della famiglia e dello sponsor principale Little Service che voleva il Pesaro salire di un gradino con un investimento più importante nel panorama nazionale e non è sempre detto che ciò avvenga a investimento fatto la somma non è mai matematica di queste in questi in questo campo e quindi l'aver constatato che la squadra è stata sempre tra le prime due durante il campionato praticamente sempre in finale nelle prime due manifestazioni in semifinale Scudetto ed è la squadra insomma che è stata più regolare con meno sconfitte più più ecco quindi questo è già un risultato che va messo agli atti ci portiamo a casa poi ovviamente delle quattro squadre che hanno avuto accesso alle semifinali nessuna è contente e soddisfatta di quello che ha fatto se non forse la Questavone che ha vinto una grande Coppa Italia dico grande perché è un grande trofeo però non giocando magari in maniera straordinaria noi siamo stati più che all'altezza però è stata eliminata prima delle final four in Coppa Divisione e Rieti ha vinto la Coppa Divisione molto contenta di questo trofeo però ha giocato male una parte del campionato e la la Coppa Italia e quindi il Napoli che non ha avuto accesso a nessuna finale quindi tutte chiedono qualche cosa a questo a questo playoff e tutte vogliono fare qualcosa in più inevitabilmente però gli atti ufficiali del nostro campionato sanciranno le due finaliste prima e poi la squadra regina e campione d'Italia che andrà a difendere i colori nazionali in Europa quindi direi che la posta in palio è talmente alta che comunque va tenuta presente la concentrazione massima senza distrazioni per ottenere il massimo possibile poi quello che viene viene hai menzionato una parola magica Europa perché sì qui stiamo a lottare per lo scudetto e ovviamente sarebbe già per qualunque di queste quattro squadre Italservis Pesaro compresa un sogno pazzesco vincere lo scudetto ma al pensiero che Pesaro parlo da tifoso da bambino tifoso al pensiero che l'anno prossimo possa vedere la mia squadra del cuore in Europa a lottare col nome Pesaro onestamente mi fa venire i brividi un po' di pelle d'oca sarebbe fantastico quindi in bocca al lupo mister torniamo però come sta questa squadra con cui tante battaglie sono state disputate e altre ne verranno presto disputate rivediamo gli highlights dell'ultima di gara 2 con la Feldieboli Eifu siccome immobile ebbene sì è il 5 maggio il mortal sospiro è ben lungi dall'essere salato la Feldieboli è viva e vegeta è pronta ad andare a battaglia a Real Rieti in paleo c'è gara 3 playoff la possibilità di accedere alle semifinali scudetto il comandante Cipolla ha lasciato la Francia per guidare le truppe rosso-blu sorretto e sospinto da un pubblico che non è mai stanco di lottare insieme ai propri beniamini alzate il volume e godetevi la sfida benvenuti dal Paladirseu Feldieboli Real Rieti gara 2 playoff quarti di finale adesso è davvero tutto pronto fisca il signor Scarpelli parte Feldieboli Real Rieti gara 2 dei quarti di finale playoff subito una palla in avanti con Raffigna che prova la conclusione il primo squill è il suo è la prima parata di Lion corner per i Rieti Raffigna serve Nicolodi che calcia la sporca Cimanghigno ma non trova la rete Boccao in avanti per Fornari Fornari si gira calcia Fornari è uscito però a trovare la rete già del Fornari che adesso riceve palla sempre spalla alla porta la tiene Fornari calcia ancora Micoli a lottare con Rieta ne esce il 12 della Feldieboli palla per Fornari che si gira bellissima palla di Rieta per Andre Andre contro Micoli Andre Ferreira 1-0 Feldieboli adesso ci prova allora il Real Rieti con Cacca che serve a Lemau si va da Giosigno Giosigno le fitte su Caponigro il pareggio immediato del Real Rieti Giosigno pressione altissima adesso della Feldieboli palla che resta vagante ci prova Caponigro para Micoli pressione altissima del Rieti Osico in difficoltà la perde Osico Giosigno serve Cimanguigno e Boccao proverà la conclusione o servirà qualcuno c'è il tocco per Fornari a puntare Boccao Cimanguigno calcia il palo di Cimanguigno che a detta del pubblico l'arbitro sta fischiando pochissimo in favore dei padroni di casa intanto la palla in avanti di Tulli per Andrè che ne è servito Lion che calcia duello aereo con Giosigno ancora Fornari serve Romano Romano dentro la tocca a Giosigno palla per Osico che sciupa Jefferson a cercare Cimanguigno elude Boccao calcia Cimanguigno Jefferson dentro per Cacca conclusione ribattuta Andrè allora per Lion pressione di Jefferson scambia con Cacca fanno correre la fel di Eboli c'è l'imbucata per Cacca che è solissimo Cacca ma non arriva nessuno della fel di Eboli riparte Nicolodi Nicolodi calcia e sul secondo palo Cacca la mette dentro per il 2-1 Rieti Rafinha perde palla Fornari è lì come un lupo Fornari calcia Osico Alemau a porta spalancata fuori di un soffio ci prova Rieta la palla arriva a Fornari ancora Micoli Fornari parata di Micoli Andrè la mette dentro palla per Fornari Andrè salva sulla linea Rafinha ancora Rieta 49 secondi Osico calcia lui Micoli la palla resta lì non entra non entra questa sera e finisce qui e il Real Rieti raggiunge il Pesaro nelle semifinali Scudetto terzo tempo al centro del campo Real Rieti ha vinto però insomma ha sofferto parecchio in casa di una fel di Eboli infuocata Fornari contro tutti dicevi mentre guardavamo gli highlights Sì però ha dimostrato ancora una volta che è una squadra che ama la battaglia quindi non puoi batterla se non fai una battaglia superiore a quella che fanno loro capito perché lì è vero che il campo era caldo ma è stato caldo per tutti lì non ha vinto nessuno durante il campionato se non mi pare ma neanche la Questapone perché la Questapone ha perso lì lì ha perso noi e quindi vincere lì una partita del genere ha detto chiaramente che Rieti è una delle pretendenti al titolo italiano 11, 14, 17, 19 e 25 maggio queste ultime due date speriamo che non siano che non servano che siano inutili non sto dando i numeri ma sono le cinque date programmate per le semifinali playoff le prime due in casa poi una in trasferta basterà chissà eventuale gara 4 di nuovo in trasferta ed eventuale gara 5 il 25 maggio in casa poi 31 maggio 2, 7, 9 15 giugno le cinque date prefissate per la finalissima scudetta a cui Little Service Pesaro ambisce di arrivare si entra in Sky Zone anche per Little Service Pesaro che in semifinale una su due giocherà in diretta su Sky e da qui il gioco degli orari insomma il dubbio degli orari relativi a sabato e a martedì cosa chiedi cosa hai detto in questi giorni cosa dirai in questi giorni alla tua squadra in particolare per battere Rieti intanto dopo tutte queste date questa fontana di date ricordiamo che alla fine di tutta questa storia una squadra andrà a cena con la Coppa dello Scudetto al centro del tavolo ed è un momento incredibile che auguro a tutti di vivere ovviamente ma anche soprattutto al Pesaro alla squadra non dico niente se non preparare la gara 1 e poi da lì a Pioggia le altre gare hanno tutte un condimento diverso che è generato dalla prima gara e dal risultato posto in essere dalla prima gara quindi stiamo parlando solo della prima gara quella di sabato testa solo a sabato e invito rivolto a sabato per il pubblico pesarese marchigiano per essere partecipi al Paranino Pizza ripeto al 99% alle ore 18 da domani mattina troverete sui social sui giornali sui siti web l'informazione definitiva relativa al calcio d'inizio e l'invito quindi dicevo a partecipare di massa perché è un'opportunità il punto più alto della storia del calcio a 5 italiano marchigiano scusate in Italia con una squadra marchigiana che l'anno scorso nel nome del Pesaro era arrivata ai quarti ma era stata presto eliminata quest'anno è in semifinale quindi siamo al top c'è anche un po' di responsabilità in questo sì diciamo che in semifinale sono approdate l'Abruzzo ma che è abituatissima negli ultimi dieci anni il Lazio storicamente abituata la Campania questa volta ci sono anche le marche che noi siamo orgogliosi di rappresentare in bocca al lupo mister di nuovo a tutti voi telespettatori l'invito ad esserci per vivere le più grandi emozioni del calcio a 5 marchigiano insieme ai biancorossi insieme al capitano Tony Dandella tutti i suoi compagni ci vediamo sabato io ci sarò sicuro ve lo prometto ve lo garantisco ci vediamo sabato al Palanino Pizza grazie mister per essere stato con noi buonasera a tutti grazie anche a voi tutti per essere stati al nostro seguito buon proseguimento con la programmazione di Rossini TV grazie a tutti